Ciao a tutti ragazzi, siamo off sul clan RGR con Dynamic Biori e Prye con il suo nuovo PC SAR Network. Bene, iniziamo subito questa partita. Cazzo ho preso le armi sbagliate, ho preso le armi sbagliate, ho preso le twin, mi dici muori, muori fottutissimo gay, fottutissimo gay, mamma mia, porco, 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 muori, muori bastardo, oh ma chi è quel froci che, mamma mia, sti froci, sti froci. Ok ragazzi, siamo tornati dopo questa piccola interruzione perché ho sbagliato arma, ho messo, l'ho messo le twin che mi servono a un cavolo e siamo ritornati qui e infatti i biori fa un bel touchdown, cazzo. non è vero, non è vero, non è vero, io non ho visto niente quindi non posso giudicare un cazzo, figli di puttana che mi hanno buttato, figli di puttana che hanno buttato Biori, figli stato a're, éckhb astardi che ti dano ok ora facciamo serie, xxx sì, serie, serie, bene sardi merde sar, cv e che ti metti a cantarekg ho gonnaficioggio mentre aggra iste chi è? chi ha questo qui? il gay? questo qui? texit? c'è anti stun? si verità i gay sono bravi a giochi a questi giochi del cazzo i gay sono sempre bravi a questi giochi del cazzo non so infatti tipo se sei bravo infatti no io non sono io non sono bravo infatti una ragazza e non sono gay raga si infatti sono ragazza ma che basta dire raga cosa cazzo raga? mamma mia questo fa ridere no non fa ridere ok ora mi stanno stuprando voi non stai facendo niente ah mi vengono al culare scusami se così mi vengono a culare con la spy chissio papà culo chialolino 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 il primo che prende palla gay zucchiate zucchiate xd avete visto come l'ho fatto il td però non mi hanno contato la kill non so trickare raga scusate sta attento biori che poi se ti inculano ti fanno diventare frosce anche te mamma mia basta incularmi di davanti uff uff madonna tex è taxista tex è taxista td rischi adorso ragazzi test questi sono si anche te però c'è il mio nome è bellissimo dynamic non è che il nome e e qui luce e il player che è nato non il nome scusate scusate aiuto aiuto stistola carter quindi ho forto 4 rs spasso buongiorno ok dai muoviti c'è così ma tutti io vario aiuto 10 c'è la maniera chi gara grazie Mi rimanevo un HP, mi rimanevo un HP per dirti Cavolo, un HP Gay, gay, gay Se non riesco a rompere i po- Ma, sono gay No, non scherzo, non sono gay Ragazzi, ragazzi, ragazzi Ok Porco lol, porco lol, porco lol Porco lol Chi è questo gay, chi è questo gay, chi è questo gay Sei tu Sorry, 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 risetto Tua madre, tua madre Vaffanculo mia madre No, 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 stavo scherzando Grande sir Sar sembra una gay con quella fascia Gay Sar gay Sar gay Cazzo voi Cazzo voi Allora siete proprio puttuti, eh, culare il mio amico Viori Non lo fate diventare gay perché poi su Skype mi scrive Ciao amore Che cazzo Risetta Guarda che palla gli ho dato Se non ti dà ora, guarda Non faccio metà gay Raga Raga 33 HP, cazzo Addio Oh, 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 oh che se fa un td nessuno ti aiuta, ma poi qualcuno ti aiuta cioè non puoi fare un td1 vs 20.000 chi sei che? chi sei? mamma mia non sai nemmeno spurnare amico non sai nemmeno spurnare ritorna a scuola grande previ prego 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 si lo so lo so lo so lo so previ prego prego lo so previ lo so lo so lo so previ lo so previ lo so lo so grazie grazie preghi di fare cosa di fare cosa di fare cosa merda merda aspetta che mi suicido sharp sharp ha ucciso Diori sharp sharp oh ritor è arrivato rector nella chiamata raga oh 51 iscritti ragazzi quattro iscritti tra poco faremo non so oggi o domani faremo oggi o domani oggi allora scusate non so quando metterò mi sa che allora metterò il video dopo quindi niente ma cosa stai facendo? stiamo facendo il video di esfor league ah ok ah non so come lo chiamerò questo titolo il ritorno di dynamics esfor si dopo una settimana oggi ci sarà pure anche il video la seconda parte di minecraft ma scusa io mi chiedo ma perché ti metti titoli di merda? cioè non puoi scrivere a parte 2 parte 2 io sarei dynamic perché stavo parlando di te e non avevo niente su cui parlare quindi ecco perchè scambiati il titolo perché scusate scusa intanto vediamo i punti scusate intanto vediamo i punti scusate intanto vediamo i punti si ma guardiamo i cd guardiamo i cd dai e ti dì 3 3 3 te 1 1 1 si e in te 58 punti io 44 quindi ma intanto io ho fatto 3 td vabbè vabbè a me ti pare muori gay puttissimo gay posso parlare di qualcos'altro? a parte che abbiamo dormito insieme? si si a parte quello a parte quello a parte quella cosa di quella ridicola cosa su minecraft che non abbiamo messo su youtube infatti per dirvi infatti perchè no non volevo nemmeno che andare su youtube guarda no perchè era troppo da gay scusate era troppo da gay non è anche perchè chi è troppo da gay perchè non si chiama di tutto non siamo gay l'unica guia che è diventata dove andiamo insieme come ho detto su video chi fa appa di più è dynamic e quindi già no ma voi ditemi scusate stiamo del male insieme già già è ridicolo che due maschi dormono insieme in un letto matrimoniale poi matrimoniale o si ve lo peggio ancora no dai matrimoniale su minecraft e poi dice poi lui mi dice ciao siamo gay ti amo bella bella chi non sa stiamo non è nella realtà ma è su minecraft eh stia anche su minecraft qualcuno può malentendci se è in realtà se è in realtà cazzo ma col cazzo in realtà mi dormo con una donna anche con una faccia schifosa che con te guarda no 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 quello no quello no mamma mia mamma mia sciarpa di merda sciarpa gamer sciarpa game di merda cioè la sciarpa non può essere non può essere game come può essere la sciarpa game video io non capisco la gente di oggi che scrive questi nomi a 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 b a a b puoi stare cito almeno due secondi sui video almeno due secondi frego ragazzi prego prego biori prego biori eh prego biori grazie where do you st la stagione della stagione non fa niente l'ambiente ma chi è che va a difendere mamma mia ragazzi ragazzi chi è che va a difendere chi è che va a difendere mamma mia dopo averlo dovremmo parlare in privato no 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 io sto parlando ovvio rinche dovremmo parlare in privato perchè c'è una questione da reti solvere qua io e te? no io ho infernus ah si 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 ho capito quello di ieri quello di ieri vi dico anche a voi perchè ci sono dato che giocate anche voi s4 league a nostro amico pre diciamo quella che era nel nostro canse x x come possiamo dire x dipendente del clan rgr x dipendente diciamo ex il account è stato rubato da un bimbo minchia che conosciamo che conosciamo bene 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 molto bene quindi ho dovuto mandare una lettera in inglese dato che in italiano fa schifo sempre vi rispondo dopo 30 anni e mi hanno scritto che ci dispiace perchè il supporto italiano non mi hanno ancora risposto tra cioè sono passati 15 giorni infatti e quindi a me non mi rilevano niente perchè io non posso fare niente però l'unico modo per riavere il vostro account potete scrivere una lettera in inglese così avete prima di tutto la risposta solo il giorno dopo secondo siete più vantaggiati ragazzi bravi diciamo cioè dato che il gioco su questo fatto ecco anche il fatto perchè praia è su questo pg e non sul suo praia quindi quindi io dovremmo risolvere questa questione questa questione eh si vabbè madonna non ci riesco nemmeno a parlare di temiana quello 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 dai dynamic madonna te l'ho fermato un pochino intanto abbiamo visto intanto abbiamo visto Piori che ha fatto un bel td free td chiamiamolo così free td e niente tratti a me e non mi ha dato assist infatti gli ha dato assisti o no? ho scritto di si mamma mia ragazzi mi hanno ucciso scrivo la lettera ti scrivo dovrei scrivere la lettera ora aspetta ragazzi appena lunedì aprò la nuova scheda video si si lui è sempre con la sua scheda grafica mamma mia hai rotto abbiamo capito abbiamo capito che tu non hai una scheda grafica abbiamo capito hai detto invidimi la video si comincia con le recensioni attenzioni ah ah allora va bene oltre a me ti dà che sei l'ultimo sei l'ultimo difendi turno 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 no no muori ciao eh no ok fatto cheese oh pray ti scrivo la lettera che ce l'ho già pronta te lo passo si ma lo devo mandare dal tuo nuovo account ti entri nel tuo nuovo account prima di tutto c'è il limite prima di tutto c'è il limite ma ti pi non